Ciao a tutti, popolo del tubo, nuovo giorno, nuovo vlog, ormai sarà una maratona fino all'uscita di Farming Simulator 19, infatti ragazzi metteremo da parte anche tutti i gameplay sta settimana, ne faremo uscire pochi ma gli daremo giù ragazzi dei gameplay, grazie grazie a tutti i nuovi iscritti, ho visto che ne siete arrivati tantissimi, più di 200 iscritti solo ieri ragazzi, quindi grazie 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 e io non vi deluderò, continuerò a parlarvi in anteprima di Farming, ma anche dopo ragazzi, se vi piace il mio modo di fare, anche quando Farming sarà già uscito, sarò ben lieto di spiegarvi le cose a modo mio, spero di essere, io siccome non so uno che parla troppo difficile, spero di essere insomma uno che riesce a spiegare le cose terra terra come si dice ragazzi, allora vi voglio di una cosa innanzitutto, lasciate perde, non vi mettete a vedere due ore di live della Giants al giorno, ce penso io ragazzi, voi iscrivetevi al canale, io me guardo le live, me le analizzo e poi vi porto questi vlog in cui vi spiego tutto, quindi state tranquilli, non perdete tempo a stare a guardare 8 ore di live che ci pensa Robby Melle vostro, allora oggi ragazzi vi parlo della gestione dei cavalli, allora ragazzi iniziamo, iniziamo dicendo che innanzitutto, questa è la mappa americana, come vedete il ranch è dove noi andremo a comprare i cavalli, mentre horse paddock è quello che noi mettiamo come posizionabile, secondo come noi lo mettiamo sulla mappa, il posizionabile vedete apparirà come horse paddock, quindi lo potete mettere ovunque, loro adesso nella live l'hanno messo nel campo 10, ci cliccate sopra e vi teletrasportate appunto sul campo in questione, vedete, 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 vedete laggiù c'è la botticina dell'acqua, vedete lì c'è la mangiatoia, quindi ragazzi si può dare l'acqua, il fieno, adesso andremo a vedere bene, la paglia e non solo, adesso ragazzi vi faccio vedere proprio il menu, questi sono i nostri lì cavalli, quindi come già sappiamo ce ne sono di parecchie tipologie, di parecchi colori, vi avvicinate al cavallo, spingete il tasto E, quello per entrare nei mezzi, qualsiasi sia il mezzo, il tasto che avete per entrare, e come potete vedere salite proprio come se fosse un mezzo, con il tasto W ragazzi, quindi quello che usate nei trattoni per accelerare, il cavallo praticamente si può scegliere se corre, galoppa, trotta o cammina, vedete, con il tasto S si può decelerare, o stop o walk, capito che voglio dire, cioè se tu stai correndo il tasto S cammina, se tu stai camminando il tasto S fermati, capito, va indietro, per uscire dal paddock, come potete vedere, dovete aprire il cancello, però ricordate, come ci stanno a far vedere adesso qua gli amici della Giants, se voi smontate da cavallo non lo potete riprendere, ma torna automaticamente alla stalla, guardate, lui adesso esce, scende per chiudere il cancello, e vedete la scritta, horse body is back in stable, cioè il cavallo è tornato nella stalla, praticamente ogni volta che voi scendete sulla mappa del mondo, il cavallo vi torna automaticamente in stalla, quindi non scendete mai se siete lontani, perché se no rimanete a piedi, il cavallo vi ritorna, vi ritorna, diciamo, dentro la stalla, ogni cavallo avrà il proprio nome, si potrà quindi anche personalizzare il nome del cavallo, ma questo adesso lo andremo a vedere, perché andremo a vedere proprio in dettaglio il menu, qui adesso stiamo vedendo una bella trottata, una bella trotterellata, e adesso andiamo, andiamo dentro al menu di giuoco, di giuoco, quando i nostri amici della Giants decideranno di farcelo vedere, comunque raga, le animazioni del cavallo so, uno spettacolo, le animazioni del cavallo, guardate l'erba che si calpesta, è inutile che mi dite, mi scrivete, farming e non ha fatto passi avanti, è vero che si potrebbero fare più passi avanti, ma se ce ne sono fatti, se ne sono fatti e come dei passi avanti, raga, dovete essere obiettivi nella vita, dovete essere obiettivi, non fate i fanboy, dai, su, di passi avanti ce ne sono stati, a voglia se ce ne sono stati, comunque, detto questo, adesso lui rientra in stalla, vedete, quando lui scende, il cavallo rientra in automatico, allora, ecco qua ragazzi, questo qua è il menu degli animali, in questo caso, i cavalli, i cavalli che lui ha in game, come vedete, ogni cavallo ha praticamente un nome, che è questo qua, questo si chiama quantum, come potete vedere, con il tasto spazio, voi spingete spazio e potete rinominare il nome del cavallo, il cavallo, come leggete qua sotto, il valore del cavallo, quindi il valore economico del cavallo, è determinato da fitness, health and cleanness, cioè agilità, salute e pulizia, quindi la prima barra è quella dell'agilità, la seconda è della salute, la terza è della pulizia del cavallo, non la pulizia del mio amico Maurizio che saluto. Poi, loro hanno bisogno, praticamente, per aumentare la barra questa qui del fitness, del fisico, il cavallo deve correre tutti i giorni, tutti i giorni deve correre, a meno 10 minuti, c'è stato detto al Gamescom, a meno 10 minuti ogni giorno di gioco. Per aumentare, invece, il cuore, la salute, deve essere nutrito con avena e paglia, e invece, per quanto riguarda la pulizia, questa qua, lui deve avere acqua e paglia pulita, per avere una lettiera pulita, letteralmente è così, cioè, praticamente, acqua e paglia condizionano, appunto, la pulizia, avena e fieno, avena e fieno, avena e fieno, condizionano la barra della salute. Ogni cavallo, come vedete, adesso loro mettono, guardate, guardate, vedete? Vedete, ogni cavallo ha il proprio nome, la propria barra, la propria personalizzazione, quindi c'è scritto pure, tra l'altro, che ogni cavallo, ogni tanto, periodicamente, e lì c'è scritto va spazzolato, io adesso non so se è una cosa che potremmo fare noi con qualche aggeggio o che verrà fatto in automatico, perché vedete, qui c'è scritto, periodicale, come cavallo si legge, they need to be brushed and cleaned, quindi vanno spazzolati e puliti. Questo ancora non ce l'hanno fatto vedere come si fa, però, insomma, siamo curiosi, siamo curiosi, e abbiamo già la, diciamo, la razione che ci vuole delle rispettive colture, l'avena 60% e il fieno 40%, diciamo, per nutrire questi belli, questi belli cavallucci, questi belli cavallucci. Adesso bisogna vedere poi se le condizioni, diciamo, di avena e fieno valgono per tutti i cavalli o solo per singolo, io penso che avena e fieno, a differenza delle condizioni, valgano un po' per tutti. Ragazzi, questo, diciamo, è il tutorial, è la spiegazione di come funzioneranno i cavalli, adesso andiamo a vedere un altro punto. Ragazzi, allora, il punto che andiamo a vedere adesso è il punto delle missioni, abbiamo già dato uno sguardo con il vlog di ieri, ma una cosa che vi voglio far vedere è che quando voi iniziate una missione, e questo ieri non l'avevamo capito, non l'avevamo detto, i mezzi non appariranno più vicini al campo, come era nel 17, ma appariranno allo shop. Quindi, se voi fate una missione con i vostri mezzi, guadagnate di più, 1000 euro, 200 euro, dipende dal costo totale della missione, guadagnate di più, e ve li potete prendere in farm, quindi voi partite dalla farm con i vostri mezzi. Se invece la missione si fa con i mezzi del titolare del campo, quindi con i mezzi non tuoi, dovrai andare a prenderti, caro amico, i mezzi allo shop, come stanno facendo loro. Quindi i mezzi, ragazzi, di ogni missione non appariranno più al campo, ma appariranno allo shop. Quindi, vedete, piano piano, in questo caso c'è questo bellissimo Fiat di T1003, che mi ha detto l'amico Jason, che ha scritto sotto il video di ieri, che questa qua dovrebbe essere la versione del mercato spagnolo, quindi Jason lavora alla Fiat, alla New Holland, quindi ne sa sicuramente più di me, e niente, vi prendete questi e andate a fare la vostra emissione. Le emissioni, ovviamente, saranno anche di fertilizzazione e di diserbo. Questo, ragazzi, è il diserbo, l'avevamo già visto in tanti video di Gamescom, ma siccome sono arrivati tanti iscritti nuovi, magari loro non hanno visto i precedenti video, e praticamente ve lo faccio vedere qua, ve lo faccio vedere su questo vlog. Io mi scuso per la qualità del video, ma, diciamo, questo video qua l'ho scaricato, diciamo, dalla live della Giants, e mi è venuto scaricato un po' sgranato, un po' in qualità che non è proprio eccelsa, però, insomma, questo video qua non serve per farvi vedere la grafica del gioco, che già la conosciamo, ma serve soltanto per farvi vedere le funzioni del gioco. E qui, come potete vedere, per chi ancora non lo sa, io forse sto andando troppo avanti, scusate, praticamente quando noi andiamo a diserbare un campo che è già cresciuto, quindi dove l'erba, le malerbe sono già cresciute parecchio, il diserbo le secca all'istante, vedete, le fa diventare scure. Il giorno dopo di gioco, praticamente, spariranno. Quindi lì per lì diventano scure, e nel giorno dopo di gioco, invece, spariscono. Come vedete, le missioni, abbiamo già detto ieri, ci saranno anche le missioni di trasporto, cioè devi portare qualcosa dal punto A al punto B, e vedete come ogni missione, ad esempio, guardate questa missione, metto pausa, se tu la fai con i mezzi tuoi, avrai 800 euro in più. Quindi, voglio dire, si parte da 200, 100, 800, 1000, cioè dipende dal numero di soldi totali, lui può fare, diciamo, una somma, un calcolo, e vi dà soldi in più o in meno, in base, se i mezzi sono vostri o no. Come vedete, poi, quando voi avete una missione attiva, c'è scritto Active. Vedete, quando voi andate a scegliere le missioni, la vostra missione attiva, ci sarà scritto Active. Tutto abbastanza intuitivo, passiamo oltre. E allora, ragazzi, qui siamo sulla parte più interessante, secondo me, del video di ieri sera, della live di ieri sera, vi metto lo schermo intero. Praticamente, la vendita e l'acquisto dei lotti di terreno. Ieri l'avevamo vista un po' desfuggita, con la live serale, sono stati molto più precisi. Praticamente, ragazzi, non solo potremo comprare lotti, ma potremo anche venderli. Quindi, se noi ci romperemo le balle di un campo, lo potremo tranquillamente vendere di un lotto di terra. Ci vogliamo ingrandire per dire, io ho il campo 20, 21, 22, 18, questa parte qui la voglio vendere, me compro tutta la parte del campo 8, lo potrò fare benissimo. Ma vediamo come sono suddivisi i lotti. Vedete, 17, 13, che comprende tutta sta zona qua, poi il 6, che comprende tutta sta zona qua. Vedete, ogni parte che è divisa dalla strada, vedete, ogni parte che è divisa così, dalle stradine così, più o meno è un lotto. Questo è tutto un lotto, questo è tutto un lotto, vedete, vedete, sono tutti come un puzzle, sono divisi in puzzle. Qui ci sarà da divertirsi anche per i modder, a fare le loro mappe nel 19, e a divide tutto in lotti. Vedete, si possono comprare anche le zone dove non ci sono i campi, come questo qua, il campo, la parte questa qua, diciamo, la parte forestale, quindi possiamo decidere se giocare solo forestale. Infatti un amico mi scriveva sotto il video di 10 motivi per cui comprare farming, che vi invito ad andare a vedere, tra l'altro, che dice, io voglio giocare solo forestale, posso farlo? Certo che puoi farlo, certo che puoi farlo. Gli attrezzi ci sono, ti compri una zona di campo, questa qua, questo qui, qui dove non ci sono i campi, e te ne vai a far legna. Quindi praticamente possiamo, possiamo sbizzarrirci come vi pare. Vedete, cliccate su una zona di campo, quella selezionata in blu, cliccate, lui vi dirà, vuoi comprare questa terra? Lui vi dirà, voi direte sì o no, se la volete comprare, e vi diventerà verde. Le terre che vedete verdi sono di vostra proprietà. Quindi, ripeto, non si comprerà più a campi, ma si comprerà a terra. Una volta che voi avete comprato un terreno, potete iniziare a decorarlo come volete voi, con i silos, con la farm, con la casa, con le stalle, con i posizionabili cippatrici, garage, silos, vedete che anche i silos ci sono, c'è una trincea, due trincee, tre trincee, la trincea grossa, la trincea piccola, la trincea tripla, cioè ragazzi, c'è una marea di roba. E praticamente voi, se il lotto di terra non è il vostro, come vedete, non ve la fa mettere, no? Vi dice non potete posizionarlo qui. Qui adesso faccio uno zoom, vedete ragazzi, faccio uno zoom sullo schermo. Se invece il lotto di terra è vostro, potete posizionare la trincea dove cacchio, dove pare, anche sull'erba, e anche se il campo è storto, vedete, come in questo caso, che è un po' collinare, un po' storto, quando mettete il posizionabile, automaticamente vi si livella. Guardate che spettacolo, si livella automaticamente il terreno sotto si plasma, diventa praticamente, non è più come sul 17, che dovevamo stare attenti che su alcune mappe, se mettevi posizionabili, andavano tutti storti, sotto c'era lo spazio che avanzava. No, non è così. Guarda, qui è tutto, vedete, è diventato pianura. Avete visto? Ve lo faccio rivedere, ragazzi, perché è uno spettacolo, perché questo sempre a chi dice che non hanno fatto novità, che non è cambiato niente, guardate che spettacolo. Mentre sul 17, qua, se mettevi la mod qui, vedete sotto c'è lo spazio vuoto perché è collinare, guardate come si modella il terreno, guardate, avete visto? Uno spettacolo, il terreno si adatta ai posizionabili, quindi questa è una cosa, veramente uno spettacolo, ragazzi, le cose che so, bisogna dirle, e dei passi avanti le hanno fatti. È vero che ci poteva essere il terreno dinamico, è vero che ci potevano essere più trattori, è vero che a quello che gli piace il same gli hanno levato il same, ho capito, raga, ma non si può avere un gioco a nostro gusto, bisogna anche pensare che farming, la Giants, non lo fa per te che stai a guardare, né per me, lo fa per tutti, quindi bisogna accontentare un po' tutti, e ovviamente quando accontenti un po' tutti, scontenti un po' tutti. Qui, ragazzi, è la nostra casa dove possiamo andare a riposare, però, evidentemente, ci sarà un'ora della giornata in cui non sarà possibile andare a dormire, ad esempio, su Pur Farming funziona così, puoi andare a dormire in casa, ma se sono prima delle 18 di sera non puoi dormire, io penso che più che una barra di stanchezza, noi avremo anche qui un orario in cui prima di quell'orario non potremmo dormire, infatti, vedete, lui sta cercando di andare a dormire alle 11.42 di gioco e gli dice tu adesso non sei stanco, guardate, c'è il tasto Sleep, vedete, quando vai vicino alla porta c'è scritto Sleep, guardate qua in alto, qua su in alto qui dove c'è scritto Giants, se lui si avvicina, c'è scritto Sleep e praticamente se tu spingi Sleep per dormire, lui ti dice eccolo, guardate, Sleep, lui ti dice vedete, you are not tired, you are not tired, scusate il mio inglese di merda, e praticamente dice tu non sei stanco e quindi non puoi dormire, quindi ragazzi entrami in casa e sarà fichissimo far passare il giorno di gioco, anche questa è una grossa novità che non c'era nel 17. poi i campi possiamo anche venderli ecco qua la prova lui adesso va a vendere un campo ma gli dice tu non puoi vendere la terra se prima non togli gli oggetti che ci stanno quindi bisogna togliere tutti i mezzi eh no i mezzi scusate i posizionabili che avete messo in una terra quindi se volete vendere un lotto di terreno dovete smantellare la farm i silos i capanni tutto quanto adesso lui ci fa vedere appunto adesso lui non gliela fa vendere la terra perché ci stanno i posizionabili sopra adesso lui va a vendere i posizionabili si venderanno esattamente come si vendevano nel 17 nel 15 eccetera basta cliccarci sopra e poi gli fa vendere la terra eccolo qua guardate vedete sell land vuoi vendere la terra vedete vendi la terra vendi il terreno e ecco fatto quindi ragazzi niente di più facile vendita del terreno acquisto e tutto quanto io spero ragazzi questo è quello che che io ho diciamo come si dice raggruppato in queste in quella di una live di ieri sera insomma ci saranno anche quelle due di stasera dove io ovviamente farò dei vlog anche per le altre due quindi iscrivetevi al canale lasciate like siate sempre pronti perché Robby vostro è Gagliard e Tosto e vi porterà sempre tutto appena può iscrivetevi al canale lasciate un like fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate iscrivetevi a miei social ci sono tutti i miei social in descrizione vedete anche su facebook che è il modo più diretto per parlare con me e in descrizione ci sono tutti i miei social il link è per comprare i giochini scontati su Istan Gaming se volete preordinare farming a un prezzo scontato o altri giochi cliccate sotto e il link è per fare una piccola donazione al canale ragazzi che fa sempre piacere e ce n'è sempre bisogno detto questo al prossimo video ciao 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 ciao